Beh, c'era da aspettarselo. Il nostro articolo ha colpito e la proposta di isolare la Madonnina è stata accolta da tantissimi, con entusiasmo qualcuno ci ha addirittura chiesto a quando la data di inizio lavori, potere della comunicazione. Solo da via Sanitica o piazza San Antonio che dir si voglia, silenzio. Per via Traverse abbiamo saputo che c'è qualcosa di grosso che bolla in pentola e che coinvolgerà quel tratto di strada e riguarda il collegamento diretto che via Dante avrà con la stazione. Tuttavia resto sempre un po' perplesso dinanzi ai si dice, forse e quel che sarà, per cui aspettiamo ancora una comunicazione dall'amministrazione comunale se lo riterrà opportuno. Nel frattempo ho ricevuto del materiale molto interessante che tra poco visioneremo insieme. Tutto merito del presidente dell'Avis di Termoli Mario Ianieri che mi ha contattato a seguito dell'articolo fornendomi del materiale molto molto interessante. Già da qualche tempo un collaboratore dell'Avis, l'ingegnere Nestor Torres del Venezuela, qui con la famiglia a Termoli da molti anni, si era direttato a disegnare come potrebbe essere l'area della Madonnina e io ho il piacere di farvi vedere i suoi disegni preludio a un progetto che si può realizzare in pochissimo tempo e senza spese esorbitanti. Andiamo a guardare queste tavole. Visione dall'alto, ne seguiranno altre, che mi sono state inviate realizzate dall'ingegnere Nestor Torres. Davvero un tocco di eleganza e accoglienza alla porta del centro storico di Termoli. Tra l'altro, cambiando il verso dei parcheggi, i posti che adesso sono abusivi diventano regolari e ne sono anche di più. Termoli Online rinnova l'invito e si rende disponibile a coinvolgere aziende private per sostenere progetto e lavori. Basta un minimo cenno dell'amministrazione e ci mettiamo subito in modo. Mi è molto piaciuta una frase detta a me da Mario Iannieri, parlandomi di questo progetto in qualche modo partorito già da tempo all'interno dell'associazione di Termoli, Avis di Termoli, e cioè che sono anche donatori di idee che plaudono chi le realizza per il bene della comunità termolese. Mi ha citato anche di altri progetti di professionisti componenti l'Avis Termoli e prossimamente gli chiederemo di illustrarceli. mi ha parlato di scalinata del folklore, teatro verde, dell'edificio scolastico Principe di Piemonte e altro. Per ora gustiamoci questa bella immagine di quello che potrà essere questo tratto di strada, questa porta al centro storico di Termoli, grazie alle tavole disegnate dall'ingegnere Nestor Torres. E gustiamoceli davvero questi disegni di come in pochissimo tempo potrebbe essere questo spazio della Madonnina, che purtroppo a oggi è ancora così. Per Termoli Online, Nicola Montuori.